Iniziamo dalla gonna. La gonna a tubino o stretta. Prendiamo a campione delle misure standard per praticità di insegnamento. Pertanto useremo delle misure di centimetri 80 per la vita, circonferenza vita di centimetri 80 e di centimetri 100 di circonferenza bacino. La linea guida della lunghezza, la linea guida del bacino e la linea guida della vita. Chiudiamo con la squadra il nostro grafico. Questa è la gonna base. Questo è il grafico completo per una gonna a tubino. Vediamo ora come trasformare la nostra gonna dritta, la base che abbiamo appena eseguito, metà gonna davanti e metà gonna dietro, in gonna svasata. In gonna svasata la trasformazione è molto semplice. Ho segnato in rosso le varianti. Pertanto ho allargato il fondo della gonna di 3 centimetri.